Ciao a tutti, sono Michele di scommesse.commentirecensioni.com Oggi andremo a vedere come prelevare denaro dal sito di Planetwin365 Dalla home page cliccate l'icona con il denaro Vi si aprirà una tendina dove cliccherete prelievo Una volta cliccato vi appariranno le diverse modalità di prelievo Nel mio caso io uso Paypal Clicco, inserisco l'importo, tutto quello che ho Vado avanti Clicco, procedi Appena possibile mi sarà inviato il denaro Torniamo alla home Come vedete non ho più soldi nel conto e ho prelevato Ciao, buone scommesse a tutti